ciao a tutti benvenuti su touch gaming e buona pasqua in questo video vi spiegherò come funziona l'ultimo strumento a disposizione per modificare la mappa ossia l'isola lo strumento è licenza fiumi e laghi che potete ovviamente sbloccare una volta che avete completato il gioco ed avete acquistato appunto la licenza tramite i punti noc le miglia dal municipio quindi una volta che avete sbloccato questo strumento che è accessibile dall'applicazione modifica isola che può essere ottenuta ripeto una volta finito il gioco avete la possibilità di fare questo praticamente potete creare fiumi e laghi come vedete avete la possibilità di scavare anche dove avete diciamo diciamo i installato una strada una texture come potete vedere avete la possibilità di creare un bel laghetto quindi potete sbizzarrirvi a creare fiumi e laghi in qualsiasi punto della mappa se questo video vi è servito vi è piaciuto cliccate sul pollice in alto iscrivetevi al canale per supportare touch gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciarci un commento